Alla faccia della ripresa. L'indice dei prezzi al consumo nel consuntivo di marzo è dello 0,4%. Il dato proiettato a livello annuo è dello 0,9%. I dati sono stati resi noti dall'Istat che mette in evidenza il fatto di come l'inflazione sia ricominciata. Ci chiediamo come molti politici potessero affermare sino a poche settimane fa che l'uscita dal tunnel della crisi fosse ormai imminente. Aumento dei prezzi dei prodotti alimentari che mettono a repentaglio il bilancio delle famiglie. Costa di più il prodotto lavorato che ha toccato punte di aumento oltre il 2% nonostante i prodotti freschi abbiano subito flessioni nell'ordine dello 0,4% fino al 3,2%. E' salito anche il prezzo dei tabacchi che ha subito un rincaro dello 0,3% di partenza fino a toccare il più 2,2%. I rincari in generale dipenderebbero anche dall'aumento tariffario dei trasporti che ha fatto toccare punte di un più 2,5%. Complessivamente il mese che oggi si chiude ha fatto aumentare il carrello della spesa dello 0,8% su base mensile e dell'1,1% in percentuale annua. L'Istat parla di un'accelerazione dei prezzi che partono da uno 0,3% in più rispetto al mese di febbraio. E' la sorpresa che salta fuori dall'uovo di cioccolato, mentre la colomba, possiamo proprio dirlo, vola sempre più in alto ma all'insegna del prezzo. Buona Pasqua a tutti.